Ciao carissimi, un secondo incidente abbastanza significativo immerso con gli aerei di ultima generazione F-35, aerei della Nato. Voi sapete che questo aereo è stato un aereo progettato parecchio tempo fa, c'è stata attorno tutta una polemica se prendere questi aerei, se comprare o non comprare qua in Italia, poi anche l'Europa con molte difficoltà decideva se prendere o non prendere questi aerei, c'è stata fatta una grande pubblicità per questi aerei, si diceva che questi sono aerei imbattibili, sono super accessoriati di tutti i sistemi elettronici, sono in pratica delle quasi intelligenze artificiali, volanti, armati, dove il pilota ormai non deve fare alcun sforzo, insomma questo aereo fa tutto da solo, ci raccontavano come se fossero delle nuove vere armi di una nuova generazione, totalmente diversi dal resto degli armi che esistono nel mondo, ovviamente si diceva che con questi aerei, armati di questi aerei, l'esercito della Nato sicuramente avranno una possibilità in più nel caso di una guerra contro gli altri paesi, ovviamente contro la Russia, la Cina e altri paesi emergenti, perché la Nato come sappiamo è un'organizzazione che sta cercando un'organizzazione intanto criminale, bisogna dire, qua non è questione di schierarsi, ma proprio una realtà oggettiva, la Nato fino ad oggi ha compiuto solo crimini nei confronti di altri paesi in giro per il mondo, e quindi un'organizzazione militare che viene utilizzata da potenti oligarchi anglosassoni per portare avanti nel mondo la politica di colonialismo e di speculazioni finanziarie attraverso le guerre, attraverso le ripressioni e così via, organizzazioni di varie rivoluzioni colorate che poi vengono sostenute, sostegno degli estremisti, sostegno dei terroristi, nel caso di Ucraina noi sappiamo che la Nato apertamente sostiene armi nazisti, per cui il sistema Nato diceva a tutti che noi abbiamo questi nuovi aerei F-35, adesso chi li vuole comprare, chi li ha già comprato, può stare tranquillo perché se tratta delle armi imbattibili, sono perfetti, sono eccellenti e così via, però a quanto pare, secondo la rivista militare statunitense Military Watch Magazine, tra l'altro agli interessati consiglio ad approfondire perché è una rivista molto interessante sulla quale potete trovare diversi materiali, soprattutto inerenti agli armamenti, alle strategie della guerra, a varie notizie dall'ambito militare, soprattutto del blocco Nato, di quello che è legato alla Nato, ovviamente la rivista è apertamente schierata, per cui non pensate basare sulla narrazione che arriva da questa rivista totalmente la vostra analisi, noi per avere un'analisi obiettiva dobbiamo prendere a 360 gradi le informazioni da tutte le parti, elaborarle attraverso la nostra sensibilità umana, attraverso la nostra cultura, attraverso la nostra capacità anche in alcuni casi di leggere tra le righe e così poi ognuno di noi può avere la propria opinione che se la deve, come dire, coltivare senza anche imporla agli altri, perché come sappiamo non esiste una la verità, nessuno di noi è il portatore di assoluta la verità, solo Dio lo è e questo ovviamente io dico dal punto di vista di una persona che per la cultura appartiene alla religione cristiana, poi se qualcuno è ateo, se qualcuno al di fuori si trova delle filosofie legate al credere, alla religione, alla fede, benvenga, anche questa è un'opinione, anche questo è un modo di vivere rispettoso, rispettabile e va sicuramente rispettato. Comunque la verità non esiste, ci sono tante diverse verità molteplici e ognuno di noi poi cerca di comporre le proprie opinioni, sempre mettendo a confronto varie verità e cercando di trovare, creare una visione, perché quello che noi possiamo creare è la visione, cari amici. Più visione è aperta, più visione è libera, più visione è indipendente, più noi riusciamo a comprendere meglio ciò che sta accadendo nel mondo. Più visione è stretta, più visione è chiusa, più visione è basata sulla sudditanza o sull'appartenenza a un'ideologia, noi purtroppo di più entriamo nelle trincee ideologiche e ci allontaniamo dall'analisi libera, dall'analisi indipendente, questo ovviamente è il nostro danno, avviene. Quindi adesso il colonnello Craig Andrell è un pilota che è il capo della squadra aerea composta da aerei F-35, ha raccontato al Military Watch Magazine, ha dato un'intervista, un'intervista molto interessante, nella quale questo pilota improvvisamente, proprio in maniera chiara, aperta e anche bisogna dire abbastanza con un certo rammarico, racconta che purtroppo F-35 non è in grado più a riconoscere attraverso gli apparecchi elettronici che ha a bordo gli obiettivi russi che si trovano sul terreno. Soprattutto si tratta dei sistemi di antiaerea e lui dice per noi è un enorme grave danno perché nelle condizioni di guerra noi volando sopra i territori nei quali non riusciamo a vedere neanche gli obiettivi che sono stati precedentemente segnalati dalla nostra intelligence, cioè non si tratta soltanto di trovare gli obiettivi nuovi, che l'aereo dovrebbe fare anche questo, perché l'aereo F-35 è dotato anche del sistema di intercettazione elettronica degli obiettivi di antiaerea sul terreno e ovviamente lui dovrebbe trovare anche gli obiettivi diciamo non segnalati dall'intelligence e non riesce a farlo, ma la situazione è peggiore perché questo colonnello dice noi abbiamo fatto diversi missioni di esercitazione e sorvolando i territori dove ci sono gli obiettivi militari russi e lui dice a noi intelligence ha segnalato gli obiettivi militari come ad esempio i sistemi di antiaerea S-300, cari amici non sono sistemi nuovissimi, sono sistemi abbastanza, come dire, non dico vecchie però esistono già da parecchio tempo, quindi non si tratta di chissà quale tecnologia, per cui questi militari americani della Nato, svedesi, insomma, sono diversi partecipanti a queste missioni, la Nato fa anche esercitazioni con i suoi paesi diciamo amici, questi militari quando sorvolavano questo territorio sono trovati di fronte a una situazione abbastanza grave, loro non sono riusciti a rilevare sul terreno i sistemi di lancio, sistemi antiaerei russi. Questa cosa è già avvenuta e un altro militare statunitense ha dichiarato la stessa cosa qualche tempo fa dicendo che i russi usano un sistema sconosciuto, un sistema di blocco dei segnali radioelettronici per i quali gli aerei statunitensi non sono in grado di rilevare niente sulla terra, non sono in grado di rilevare gli obiettivi da colpire ma non sono neanche in grado di rilevare soprattutto gli obiettivi che rappresentano per qualsiasi aereo il pericolo, ovvero l'antiaerea, perché a un aereo, a un caccia oppure un bombardiere, un aereo che fa una missione è molto importante essere dotato di un sistema in grado di rilevare gli obiettivi da colpire, però molto più importante difendersi dagli obiettivi, poter difendersi, quindi rilevare gli obiettivi dai quali arriva l'estremo pericolo, altrimenti l'aereo rischia di essere abbattuto. E quindi questo colonnello Craig Andrell, lui dice noi abbiamo fatto di recente una missione, ci sono stati segnalati diversi obiettivi di antiaerea che si trovano per terra, che sono dislocati, noi abbiamo sorvolato diverse volte, abbiamo fatto i nostri voli di ricognizione, non li abbiamo trovati, non li abbiamo rilevati, l'aereo non rileva neanche obiettivi che sono già stati segnalati dall'intelligence, e lui dice e non rileva neanche quelli che non sono stati segnalati, perché probabilmente i russi hanno utilizzato un nuovo sistema di blocco radioelettronico che rende questi sistemi di antiaerea, sistemi missilistici invisibili sulla terra. Dall'aereo come F-35 non si può, come sapete, in maniera visuale rilevare certi obiettivi, anche perché vola sulle altezze abbastanza importanti, la velocità è alta, quindi là tutto avviene attraverso segnali elettronici, attraverso i sistemi di riconoscimento che sono legati a vari sistemi di computer, a vari software abbastanza complicati, e ovviamente tutti questi sistemi sono purtroppo inutili, secondo questo colonnello, perché F-35 è stato dotato da un sistema di rilevamento elettronico che viene tranquillamente bloccato da questi nuovi sistemi russi. Questo militare fa un ragionamento nel suo articolo molto importante, lui dice che se questo è un aereo moderno F-35, l'aereo della quinta generazione, non è in grado di rilevare semplici vecchi sistemi di antiaerea russa, figuriamoci gli aerei sovietici che verranno forniti all'Ucraina come MiG-29, come abbiamo già saputo la Polonia fornirà all'Ucraina i MiG-29, alcuni sono stati già mandati in Ucraina, i 13 aerei sono già stati mandati anche da Slovenia e in grande linee, tre di loro saranno fatti a pezzi per ricavare vari elementi, vari dettagli con quali mettere in funzione gli aerei che ci sono già e dieci invece saranno pronti tra poco per essere messi in combattimento, perché loro comunque sono aerei che non volavano da parecchio tempo, venivano tenuti nell'hangar, anche perché far volare questi aerei costa insomma. Da qui anche si parla molto, alcuni dicevano che sì, Polonia può dare fino a 20 e qualcosa aerei, ma quali di questi aerei saranno in grado di volare è ancora una domanda. Comunque in tutto questo, a prescindere dalle discussioni del numero di MiG-29 che adesso probabilmente arriveranno e saranno forniti all'Ucraina, a prescindere dal numero, a prescindere da tutte le discussioni che ci sono attorno, emerge una situazione abbastanza critica, sollevata da questo colonnello americano e sollevata anche sulle pagine di un giornale prestigioso, un giornale militare. Lui dice se noi con l'aereo di quinta generazione non siamo stati in grado di rilevare le posizioni dell'antiaerea russa, figuriamoci i MiG-29 che sono ormai ferri vecchi, per quanto si può dire. Saranno abbattuti, quindi qual è senso di mandare avanti la gente a morire, mandare avanti gli aerei nelle missioni quando non c'è un metodo, non c'è stato ancora inventato un metodo per debloccare questi sistemi di blocco radioelettronico che hanno inventato i russi e attorno ai quali finora i specialisti della Nato non sanno fare altro se non grattarsi il capo e rimanere sorpresi. Quindi questa in grande linea è la notizia abbastanza preoccupante per la Nato, preoccupante per l'Ucraina, perché questi nuovi sistemi di blocco radioelettronico creano abbastanza gravi danni al sistema della Nato, all'esercito ucraino, non solo nell'ambito della comunicazione, non solo, come abbiamo detto già nei video precedenti, non solo bloccando la condivisione dei dati tra vari riparti militari ucraini perché riescono a bloccare il funzionamento del sistema Starlink fornito da Elon Musk all'esercito ucraino. Questi nuovi sistemi mettono in difficoltà anche il rilevamento, il modo di rilevare degli aerei, le batterie di antiaerei che si trovano sul terreno e quindi un aereo che vola nell'aria, fa una missione militare e non vede che sotto contro di lui si stanno lanciando un missile e un aereo che verrà abbattuto e verrà distrutto. Per cui il colonnello statunitense Craig Andrew mette questa situazione, questa problematica in esalto, cerca di attirare l'attenzione spiegando che se la Nato vuole portare avanti una situazione di sostegno all'Ucraina dovrebbe anche mettere in conto qualche tecnologia che possa aiutare agli ucraini di debloccare questi sistemi radioelettronici che utilizzano i russi. Grazie cari amici per essere stati qui con me, vi mando un forte abbraccio.